Il quarto gruppo in gara, lo sono i Mogherini! Il quarto gruppo in gara, lo sono i Mogherini! Il quarto gruppo in gara, lo sono i Mogherini! Il quarto gruppo in gara, lo sono i Mogherini! Il quarto gruppo in gara, lo sono i Mogherini! Il quarto gruppo in gara, lo sono i Mogherini! Il quarto gruppo in gara, lo sono i Mogherini! Il quarto gruppo in gara, lo sono i Mogherini! Il quarto gruppo in gara, lo sono i Mogherini! Il quarto gruppo in gara, lo sono i Mogherini! Il quarto gruppo in gara, lo sono i Mogherini! Il quarto gruppo in gara, lo sono i Mogherini! Il quarto gruppo in gara, lo sono i Mogherini! Il quarto gruppo in gara, lo sono i Mogherini! Il quarto gruppo in gara, lo sono i Mogherini!